Dopo il maxi finanziamento di 20 milioni di euro di fondi PNRR ottenuto e annunciato lo scorso maggio, Marche Multiservizi mette a terra il suo piano di riqualificazione e ammodernamento della rete acquedottistica. Dai progetti si passa infatti ai cantieri relativi al potenziamento di 50 km di condotte della provincia per un investimento complessivo di 27 milioni e mezzo di euro. Tre i cantieri al via della prossima settimana, uno a Lunano, uno a San Lorenzo in Campo, uno a Pesaro in via Ponchielli. La settimana seguente poi partirà anche un cantiere a Soria, grazie al quale verranno realizzate, oltre ad una nuova rete idrica, anche nuove condotte del gas in via Agostini e via Donzelli. Un intervento che coinvolgerà stralci diverse vie del quartiere e si concluderà in primavera. Complessivamente con questi primi interventi verranno realizzati 8,5 km di nuova rete idrica e un chilometro di nuova rete gas per un investimento di 3,5 milioni di euro. Per Marche Multiservizi i fondi PNRR rappresentano dunque un'occasione unica di ammodernamento della rete anche in chiave ambientale. I cantieri però dovranno correre visto che le scadenze imposte dal PNRR sono quelle di una conclusione lavori entro il 31 marzo 2026.